Poche parole vi state arrangiando? Io dico solo una cosa, non avrei mai immaginato scusate ma per me è commovente, non avrei mai immaginato nei cittadini di stella una capacità così elevata, così di grande solidarietà di grande solerzia anche nel rendersi disponibili e soprattutto nel risolvere rispondere alle esigenze senza forti pretese, senza forti egocentrismi ed egoismi cioè c'è veramente nella grande difficoltà manca l'acqua da giorni, manca la luce mancano le strade, persone che non hanno nulla, veramente c'è un silenzio dignitoso ma che non è un silenzio di chi sta operando ma è il silenzio di chi comunque non ha neanche, come dire, ha la vergogna di poter sollevare la richiesta ma i privati sono intervenuti con i loro mezzi, con mezzi propri, con ruspe? in tutti i modi, dalle braccia alle palle alle ruspette ai trattorini, là dove ognuno poteva agire nel proprio, è logico che nei luoghi di estremo pericolo e di grossi interventi è impensabile ed è veramente anche noveroso non intervenire perché tutto può essere fatto anche in funzione di un'auto gestione, come dico io siamo tutti noi protezione civile, noi stessi siamo protezione civile per noi stessi, per cui come funziona la protezione civile in un'azione di ripristino in sicurezza deve essere fatto anche per i cittadini, ci deve essere la certezza di non avere rischi di incolumità, pertanto stanno lavorando, non stanno cercando l'aiuto o bisogno, bisogno. Tutte le strade di stella, private, comunali, vicinali, provinciali, per infine la statale, sono state oggetto di smottamenti, caduta a alberi, frane, per cui non si è salvata una strada su tutto il territorio di 45 km2 di stella. È un'evoluzione geologica che nasce dall'abbandono alla coltivazione di queste zone. Noi stelle avevamo l'80%, da qui al Begua avevamo coltivazioni. La trasformazione di questo territorio in boschivo, ma che è un boschivo relativamente giovane, con una radificazione relativamente giovane, abbiamo delle zone boschive che sembrano degli attolli che si stanno spostando, stanno scendo, cioè in San Martino ho un bosco che non ti accoggi che c'è la frana perché in effetti si è spostato il bosco. C'è stata una situazione poi di una bomba d'acqua, di una quantità di acqua tale che ha impedito alle falde acquifere di poter fare il loro lavoro, di intervenire con un attrenaggio naturale laddove in effetti tutto questo è impossibile e le conseguenze sono queste. Qua oggi lo viviamo su stella, ma la situazione di stella può essere assolutamente rapportata, riportata a qualsiasi territorio circostante. Ciò che avviene oggi a stella, così come molto tempo fa, dalle 5 terre, piuttosto in altra realtà di tutto il territorio ligure, posso immaginare questo panorama in cui tutti noi comuni prima o poi, non possiamo più dire tristi a chi capita, ma dovremmo essere veramente tutti solidari al fatto che prima o poi tutti saranno colpiti da cose di questo genere. In questo momento abbiamo avuto notizia anche che la fabbrica o la cartiera che abbiamo qua in zona ha all'interno bloccati 50 camion perché sia dalla provinciale 2 che scende per Albisola non è possibile passare ai mezzi pesanti che in questo momento neanche sulla statale 334 perché anche questa è stata chiusa al traffico di mezzi pesanti, per cui in questo momento dovremmo gestire l'emergenza anche di questi 50 camion all'interno della cartiera. Adesso oggi mi hanno garantito un sostegno da parte del centro operativo della regione perché devo dire che siamo in sofferenza anche in quello perché noi qua da sabato senza per carità nessun tipo di polemica però siamo soli. Noi abbiamo offerto la corrispondenza da 4 giorni. L'unica strada provinciale che è stata ripristinata tutt'oggi, la strada, se non dico numeri che non sono corretti, mi sembra la 32 che è quella che da San Giovanni va alla francese di San Bernardo, abbiamo pulito noi, la strada è stata pulita dalla nostra protezione civile ed è alla sera con un mezzo che abbiamo recuperato, con un grosso mezzo, una grossa ruspa che viene recuperato da un privato, abbiamo tirato giù anche questa... e abbiamo liberato la provinciale noi. Mi dimenticavo che anche la provinciale, quella di Gameragnasana l'abbiamo liberata noi. E la provincia non è riuscita a venire? No, io della provincia non ho ancora visto nessuno. Nessuno. Oggettivamente devo rilevare il fatto che tutti gli interventi li abbiamo fatti in autonomia, però ecco non posso dare colpi a nessuno, questo è assolutamente, anche perché ci raccoglieremo poi dopo a mente fredda a capire come in futuro, perché mi ripeto, questa è una cronaca di un momento annunciato, ma è la premessa di altri eventi come questi, per cui purtroppo è questo che sarà e vedremo da farsi.